... ... ... ... ... ... ... ... La storia è protestante. Questa è la prima volta che entro in piedi. Sì, è fighissimo, scusami, ma c'è stato il numero uno. Che forte, bellissima. Sicuramente è un po' di spazio. Questo è il tuo monticello di cose. Il tavolino di mangio non l'hai fatto tu? No, il tavolino. Sei mangio se è una tua creazione? No, è l'alimentazione del capito del sexo. Ho conosciuto...